buonasera no non era sì buonasera sera buonasera a tutti buonasera a tutti voi ben trovati che bello quanti siete è una bella è una bella serata dedicata all'ipnosi e alla psicoterapia connessioni utilizzi applicazioni ma anche matrici 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 che la di cui la mente ha bisogno no o forse matrici che la mente genera chissà vedremo vedremo scoprire stasera sì non sono vivendo va bene allora direi che siamo online e che siamo verifichiamo un attimo con i nostri followers se se diciamo sono tutti cioè ci sono problemi di audio video quant'altro ci danno un po di feedback sul video qualità audio qualità video tutto perfetto ottimo iniziamo alla grande oggi iniziamo alla grande si iniziamo molto bene iniziamo alla grande iniziamo con salutare direi in prima istanza oltre a ringraziare il nostro alessandro campidori che sempre così pronto così smart e in grado di farci partire in tutte le situazioni no anche diciamo quelle stasera è molto fortunata però non è stato sempre così diciamo nella nostra storia eh mediatica quindi io voglio ringraziarlo a nome di tutti per tutto quello che che fa per noi alessandro ogni giorno e poi saluto i nostri allievi della scuola di psicoterapia eric from di cui mi fregio essere il direttore e che eh sono con noi questa sera inoltre ringrazio anche i nostri tirosinanti oltre che i nostri allievi quei tirosinanti che ogni anno eh anzi ogni semestre eh rinfocolano sempre quel crogiuolo di di cambiamento e di e di bellezza no di energia nuova che continuamente approda al polo psicodinamiche e naturalmente saluto il professor Ennio Foppiani nostro mentore nostro anche coordinatore dell'area dell'ipnosi per la scuola di psicoterapia eric from e naturalmente eh i colleghi del CICS oltre che eh Paolo e Guido naturalmente anche eh spero di non saltare nessuno qui nella nostra eh lista di eh attendis eh saluto Milena Milena e ehm poi Foppiani Mario Canovi e ehm e certamente qualora si fosse collegato anche il dottore Ezio Benelli che anche lui a suo tempo si formò con eh Granone bene io direi che per quanto riguarda il rapporto tra l'ipnosi e la psicoterapia eh in questo caso stasera sarò apprendista eh più che direttore e docente tuttavia mi eh concederete comunque la possibilità di intervenire con le domande spero non troppo ovvie ma che permettano a tutti noi di capirci un po' meglio. Non esistono domande ovvie. Esatto. Beh io sono abbastanza invece brava. Sono molto ovvie. Grazie. Cittura nera di domande ovvie. Perché nella domanda ovvia si nasconde anche il tentativo di ehm come dire di non tanto di rispondere ad un quesito quanto di appianare una eh una mia condizione che è quella di aver bisogno di fare sempre delle libere associazioni quindi qualche volta faccio delle domande che sono anche un po' come dire dei dei ponti che mi portano poi a delle nuove catene di significazione. Bene vi lascio la parola ehm organizzatevi pure voi ragazzi su come volete introdurre l'argomento. Perfetto guarda Irene grazie mille. Grazie per la presentazione e ringrazio anch'io tutti i partecipanti che insomma fa sempre bene al cuore. Questa sera sono davvero molti. Sono davvero tantissimi. Sì quindi è molto bello vedere che c'è tanta curiosità anche rispetto a a questo tipo di di argomenti a questo tipo di ehm di concetti e di strumenti. Sì cominciamo allora a fare un primo distinguo cerchiamo di capire eh qual è la differenza tra nell'ipnosi in rapporto alla psicoterapia qual è la differenza tra strumento metodo? Magari facciamo anche un po' di chiarezza diciamo sul piano dell'impostazione concettuale che diamo. Certo. Allora guarda io mi rifaccio un attimino anche a quello che i nostri studenti e insomma che sta visualizzando questo con questo intervento può recuperare anche dalla lezione di di Agno e Donatella. Quindi riprenderei anche un attimino la definizione di ipnosi anche soltanto per per rinfrescare e riverdire un pochino la memoria di chi ha già partecipato all'altro webinar. Perfetto. Sostanzialmente è importante capire che per Granone ad esempio esisteva l'ipnotismo e l'ipnosi laddove l'ipnotismo è lo strumento quindi la procedura e l'ipnosi invece è uno stato mentale. Adesso per facilitarci anche un pochino la trattazione utilizzeremo come sinonimo di ipnotismo quello di ipnosi che nell'accezione comune è diventato lo strumento e utilizzeremo il termine trans invece per in qualche modo ricondurci allo stato mentale perché è più di uso comune e quindi facilita anche molto chi eventualmente ci sta ascoltando a recuperare delle conoscenze che già in modo tale che non si senta spaisato. Pertanto l'ipnosi diventa quindi una procedura che ci permette di indurre nel paziente uno stato di trans e lo stato di trans è uno stato dinamico nel quale il paziente può portare sostanzialmente delle modificazioni qualitativamente e quantitativamente rilevabili a diversi piani di complessità addirittura ad arrivare a livello di peptidi quindi stiamo parlando di piano somatico viscerale e quant'altro e già questo è molto importante perché ci permette poi no la trattazione rispetto alle varie al fil rouge che lo vede un protagonista nelle varie in realtà scuole di psicoterapia in generale però ci arriviamo piano piano a questo vorrei anche un attimino fare un richiamo al monedismo plastico monedismo plastico è un concetto che granone come tanti altri ipnotisti tecnologi hanno derivato da braid che molto concretamente lo faccio veramente come se fosse un ripassino di senso comune è un'idea che diventa concreta che diventa realtà quindi è una modificazione che a livello di pensiero diventa attuata a livello somatico viscerale o quant'altro ed è un nodo saliente perché è quello che ci permette tra l'altro di comprendere quanto effettivamente il paziente che abbiamo davanti stia andando in uno stato di trance ossia già in uno stato di trance quindi questi sono i primi concetti che mi piacerebbe puntellare poi vorrei introdurre altri altri concetti che sono presenti naturalmente nella trattazione di granone però sono anche molto ben evidenziati ad esempio i speaker che sono la focalizzazione la concentrazione e l'assorbimento questi tre concetti sono fondamentali perché quando noi poi andiamo a vedere come l'ipnosi effettivamente viene declinata nei vari no supporti teorici che poi fondano il pensiero di una scuola di psicoterapia la troviamo in qualche modo passatemi il termine imbrigliata in protocolli un pochino stringenti però che effettivamente la rendono efficace per un utilizzo specifico però adesso ci arriviamo perdonatevi se ho fatto un po questo recap un po di concetti iniziali per poi cominciare poi a parlare tutti quanti lo stesso ci sciogliamo un po così poi naturalmente se ci fossero dei dubbi noi siamo qui per rispondere proprio a questi perché anche l'impostazione che abbiamo voluto dare con Guido che ringrazio di sostenermi in questa e che sostengo a sua volta in questa serata è proprio quella di una chiacchierata eh tra amici tra colleghi che si confrontano che si confrontano rispetto a il proprio bagaglio culturale che non è soltanto una matrice teorica ma anche tutti gli strumenti che noi abbiamo mutuato dalla nostra esperienza perché ovviamente ognuno di noi eh lo vediamo ha fatto corsi differenti ad esempio eh c'è l'MDR adesso va molto di moda la mindfulness che comunque tra l'altro è uno strumento che muta già da da diverso tempo c'è sempre stata una passione della psicologia per tutto ciò che è di derivazione eh fondamentalmente di meditazione eh abbiamo Jung lo stesso From la città più volte e scrive dei testi approfonditamente e profusamente su questo e e ci stanno anche altri protocolli però adesso anche per no eh per far capire che che parliamo tutti quanti un po' lo stesso linguaggio esistono tantissime scuole di psicoterapia c'è Grassi che che ne conta circa settecentocinquantatré però io penso che ormai adesso mentre contiamo sono un po' come le bombe che vengono disarmate no? Aumentano aumentano perché giustamente ognuno di noi crea nel corso della propria esperienza non soltanto grazie alla comunicazione con altri colleghi una propria etica una propria epistemologia e una propria pratica clinica che cerca in qualche modo di eh rendere sempre più trasmissibile e se noi volessimo creare dei macro insiemi all'interno delle quali inserire queste scuole possiamo naturalmente trovare gli orientamenti psicodinamici analitici quelli psicodinamici non analitici le scuole che io definisco neuroscientifiche dove abbiamo tutte le scuole neurobiologiche la PNEI la SITNEI e via discorrendo cioè tutta una serie di scuole che si occupano prevalentemente dell'aspetto psicosomatico o comunque sia l'aspetto fisiologico un pochino preponderante rispetto a quello concettuale della mente poi naturalmente questa declinazione sfuma all'interno delle varie dei vari continuum però questa è una macro classificazione dopo ci stanno delle scuole che sono un pochino più specifiche e sono un pochino più eh tagliate oh Irene ti sei sdoppiata Irene è un fenomeno è un fenomeno ai limiti ai limiti della realtà ai limiti della realtà ok è per non dire ai limiti della psicopatologia al limite del matrix proprio quando parlavamo di matrici ecco che ci ripiandiamo dentro l'altro si era fermato in una posizione estremamente suggestiva perché era comunque sembrava concentrata esatto sembrava che stessi dicendo una cosa interessante invece no si era bloccata si era bloccata e poi naturalmente ci stanno può darsi che io fossi bloccata in un pensiero interessante che era troppo interessante e quindi lo spero poi naturalmente ci stanno due scuole che sono molto interessanti anche per la trattazione che incuriosisce molto spesso si approccia all'ipnosi che sono le scuole che nascono in California quindi in particolare la scuola di Palo Alto dove vede no la crescita e l'evoluzione di psicoterapia è basata molto sul linguaggio e sull'ipnosi che daranno poi in qualche modo vita a personaggi grandiosi come ad esempio Ericsson piuttosto che Batslavic piuttosto che tutte le scuole sistemiche che sono arrivate anche a noi e che sono parte fondamentale certo non dimentichiamo anche quello un pochino più di matrice italiana ad esempio la scuola psicosintetica che effettivamente è una scuola analitica interessante poi ci stanno altre scuole di pensiero come il costruzionismo il costruttivismo che derivano anche molto da matrici filosofiche quindi questo per dire che cosa sostanzialmente che la psicoterapia da tempo e adesso qui mi aiuterete anche voi naturalmente si interessa di come il pensiero e la matrice della comunicazione possano creare a volte dei gap e questo viene declinato in diverse in diverse modalità differenti ognuna di queste psicoterapie e qui cito uno psichiatra che si chiama EI che ha scritto un manuale di psichiatria negli anni sessanta la prima edizione che dedica tutto un capitolo sull'ipnosi e lui sostanzialmente dice una cosa molto interessante la faccio dire a lui così non la dico io cioè dice che tutte le scuole di psicoterapia si avvalgono di strumenti di matrice ipnotica cercando a volte anche di superare dei limiti che potevano essere dovuti anche al tempo perché ovviamente negli anni sessanta c'era una concezione un pochino differente dell'ipnosi rispetto a tutte le consapevolezze che abbiamo adesso grazie ai numerosi studi che vengono prodotti e basti pensare che soltanto nel decennio tra il duemiladieci e duemilaventuno sono stati prodotti circa 20.000 studi in ambito medico quindi non soltanto di matrice psicologica che è una cosa molto interessante quindi c'è stata una consapevolezza differente di questo strumento tutte queste scuole quindi si sono dotate a loro volta di un protocollo chiamiamolo così ipnotico del quale però poi a un certo punto si perdeva la radice iniziale quindi ad esempio l'oniroterapia oppure le visualizzazioni guidate cambiavano il nome dello strumento si muovevano nel tempo in avanti staccandosi sempre di più della matrice e naturalmente da un lato potevano perdere tra virgolette di potenza dello strumento dall'altra però guadagnavano intrasmissibilità perché giustamente come chiunque si approccia all'ipnosi vediamo che non è tanto la tecnica la cosa importante ma quanto avere in mente la procedura perché questa è la vera sostanza dell'ipnosi cioè la procedura la procedura come tutti gli strumenti si muove nel tempo quindi una linea del tempo che ha un inizio che ha un proseguimento che ha un apice e che poi naturalmente viene alla fine quindi perdendo questa consapevolezza naturalmente poi si sono avute capita molto speso poi chiedo anche ai colleghi di sentire qualcuno che dice sì stavo facendo questa pratica e poi mi sono reso conto che il paziente me l'ero perso perché effettivamente perdere il senso di uno strumento fa perdere anche la chiarezza della fenomenologia che ho davanti e quindi perde in qualche modo di vista come poterla gestire ad esempio sono famosissime le abbreazioni di Anna O quindi questi momenti catartici che durante l'ipnosi con Freud effettivamente la portavano ad avere delle consapevolezze rispetto a degli stati anche infantili e dei ricordi infantili anche traumatici che però portavano poi a una risoluzione come se si sciogliesse un po' un nodo naturalmente consapevoli di questo è opportuno poi chiamare il protocollo dell'ipnosi in determinati modi tornando al concetto di prima faccio un esempio molto molto pratico l'MDR è sostanzialmente uno strumento effettivamente molto efficace soprattutto si è utilizzato bene se seguendo bene il protocollo e su determinati argomenti viene utilizzato tantissimo per l'elaborazione del lutto per la risoluzione di eventi traumatici nel PTSD e quant'altro ovviamente quello è uno strumento di matrice ipnotica ed è molto semplice capire il perché e il per come abbiamo citato prima tre concetti focalizzazione, assorbimento e concentrazione la focalizzazione solitamente è su uno stimolo che poi possa essere interno o esterno come nel caso dell'MDR, perdonami se ho fatto il gesto fatto male, lo so era solo per far capire che in qualche modo sapevo di che cosa stiamo parlando c'è una focalizzazione su uno stimolo esterno, si porta il paziente ad un livello di assorbimento rispetto alle proprie sensazioni interne e lo si fa concentrare su un ricordo singolo è esattamente una pratica induttiva con uno script abbastanza stringente perché comunque sia lo si porta sempre all'interno di quella situazione però effettivamente si hanno numerosissimi effetti di trance, saperlo aiuta, solitamente noi quando facciamo il corso ad esempio non chiediamo ai nostri discenti di eliminare qualsiasi strumento loro abbiano a loro disposizione bensì di integrare all'interno di quel protocollo che già conoscono la consapevolezza che si tratta effettivamente di uno strumento ipnotico che poi lo chiami acqua claudia piuttosto che acqua ferrarelle di acqua effervescente naturale sto parlando, perdonatemi l'associazione libera ma qua la bottiglia. Quindi questo un po' per introdurre il fatto che ognuno di noi in realtà già nel proprio bagaglio possiede uno di questi strumenti è che nel protocollarlo spesso se ne perdono dei pezzi oppure si allungano tanto alcune fasi dell'ipnosi stessa come ad esempio nel rilassamento progressivo il rilassamento progressivo di Jacobson o il training autogeno sono dei rilassamenti molto lunghi che a volte procedono addirittura per sedute intere prima di arrivare alla fine però fanno parte prevalentemente di quella che noi definiamo il momento dell'induzione dopodiché bisogna arrivare anche a un lavoro noi lo vediamo ad esempio anche in Porghese, in Porghese tra l'altro una lezione che sarà molto interessante è fondamentalmente questo, concentro le emozioni in una sensazione, in uno stimolo e poi lo rilascio però precedentemente c'è un momento di concentrazione, rilassamento, assorbimento e via discorrendo dopo c'è il lavoro, quindi è molto importante secondo me cadirebbe in questo che l'ipnosi è sostanzialmente uno strumento molto potente, poliedrico e adesso lo vedremo anche con Guido quanto lo è e che va valorizzato e compreso quando lo si possiede già eventualmente bisogna essere più consapevoli di quello che si va a fare per ottenere un risultato migliore soprattutto nell'ottica di una migliore condizione del paziente quindi di migliorare la sua sintomatologia per questo io definisco sempre l'ipnosi come uno strumento laico e adesso sì certo mi chiamo Granone sicuramente però prima di arrivare all'istituto io ho fatto una scuola di psicoterapia che era la SMIVI di Riccardo Orane di Bertolino dove appunto la matrice laica dell'ipnosi era evidente perché all'interno stesso del contesto noi potevamo apprendere gli strumenti di tutte le matrici culturali, di tutte le grandi scuole e tra l'altro anche questo permetteva di utilizzare determinati protocolli come ad esempio quelli cognitivo-comportamentali che sono ottimi per il decondizionamento ad esempio con però un percorso in ipnosi quindi magari un fluting progressivo rispetto ad alcune situazioni vissute come fobiche, pericolose o quant'altro che portavano esattamente a quello che si vorrebbe ottenere però con meno fatica da parte del paziente perché anche questo è un altro concetto molto importante l'ipnosi è come un catalizzatore un catalizzatore da un punto di vista chimico o biologico è semplicemente una molecola piuttosto che un elemento che facilita una reazione senza prenderne parte quindi non viene mai sprecato, chiamiamolo così però permette a quell'avvenimento, a quella manifestazione di prendere vita con una minore necessità di energia quindi facilita molto, ad esempio invece di vedere una montagna facilita molto vedere una collina è già molto più in qualche modo fattibile per un paziente avere questa percezione rispetto ad un problema quindi è per questo che secondo me l'ipnosi è utile a tutti quanti è ancora più utile se riconosco già di utilizzarla e quindi capisco quello che faccio e quello che vedo ma soprattutto è utile perché è laica sostanzialmente può essere utilizzata in qualsiasi scuola con qualsiasi matrice epistemologica, culturale o quant'altro sia in ambito psicologico che in ambito medico e soprattutto permette di utilizzare delle cose che sono fisiologicamente alla portata di tutti per seguire il loro obiettivo certo è che naturalmente bisogna fare ovviamente delle attenzioni delle attenzioni particolari a soggetti un pochino più fragili o comunque a creare una bella esperienza ma questo è sottinteso da parte del nostro codice deontologico comunque per sottolineare ancora di più il fatto che l'ipnosi sia uno strumento laico tutti gli autori ne hanno trattato prima o poi adesso faccio un esempio molto più banale se noi andiamo a prendere il manuale di rovetto che abbiamo studiato tutti quanti o quello il canestrari in entrambi c'è un capitolo sull'ipnosi e sulle pratiche ipnotiche nei manuali di psicopedagogia del liceo c'è tutto un capitolo dedicato all'ipnosi perché naturalmente tornando al discorso di prima questo tipo di procedura è una procedura che è alla portata di tutti lo possiamo utilizzare tutti nel nostro ambito naturalmente con le nostre finalità e relativamente alla nostra professione ed è possibile in qualche modo aiutare tutti i nostri pazienti anche soltanto a rilassarsi di più tornando invece a fare un passo indietro perdonate voi Guido quando vuoi intervenire sono un chiacchierone quando vuoi intervenire mi fermi tranquillamente importanti dove se poi naturalmente ci sarà il tempo mi aggancerò un pochino perché in effetti tutto quello che hai detto in particolare due concetti sono importantissimi credo per chi ha un approccio all'ipnosi per usarlo poi naturalmente come uno strumento anche all'interno delle proprie pratiche del proprio lavoro in generale perché diventa qualcosa che si integra bene proprio perché costituisce il DNA di tutta una serie di ma come giustamente dicevi te non va a snaturare qualsiasi tipo di approccio ma anzi va semplicemente a reintegrarlo riprendendo anche delle parti che lo costituivano proprio ed è per questo che diventa un momento intenso un valore aggiunto sicuramente grande perché fornisce anche qualcosa di alternativo rispetto a di alternativo e di come dire utilizzabile senza tutta una serie di requisiti che invece magari il psicoanalitico richiede tutto questo diventa indispensabile proprio nell'ambito di una terapia certo anche perché tornando a questo discorso è effettivamente uno strumento complementare a tanti altri quindi completa ad esempio quando noi vediamo la pratica delle associazioni libere soprattutto molto ortodossa in realtà è esattamente questo è un processo di ipnosi all'interno del quale lo stimolo sono le parole e più associo parole e più vado in uno stato di trans profondo e più naturalmente abbasso il mio livello di critica e posso eventualmente utilizzare delle risorse che sono a portata di mano ed è anche molto bello vedere come lo stato di trans o comunque l'ipnosi è in qualche modo compatibile con qualsiasi tipo di topica cioè se noi utilizziamo ad esempio una topica io superio S piuttosto che una procedura psicocognitivo scusatemi il cognitivo comportamentista sono sempre così è sempre complementare funziona sempre nello stesso modo ed è sempre sposabile con qualsiasi tipo di approccio quindi effettivamente è qualcosa che abbiamo nel DNA tra l'altro le applicazioni sono le più disparate quando noi andiamo a prendere ad esempio Ericsson Ericsson è affascinantissimo lo so che sembra strano granone parlo di Ericsson però Ericsson effettivamente è affascinante perché aveva una capacità tale di riuscire a costruire di per sé delle induzioni dalla sua intuizione riusciva ad intuire di volta in volta cosa fosse più consono per indurre il paziente indurre nel paziente la trance e tra l'altro la cosa importante che va detta è che naturalmente Ericsson ha anche tutta una componente di ricerca perché nelle nuove vie dell'ipnosi che tra l'altro in preparazione nel 78 viene in qualche modo prefatta da Granone da Granone stesso che ci teneva molto alla traduzione di quel libro appunto racconta come avesse ripreso tra l'altro alcune tecniche di induzione di Braid per degli esperimenti a livello universitario è molto interessante tutto questo aspetto e soprattutto le applicazioni sono le più disparate possiamo andare da sintomi depressivi l'ansia disturbi alimentari disturbi della condotta alimentare alcuni tipi questo lo dice ad esempio di disturbi della personalità possiamo naturalmente andare a lavorare sulla gestione il controllo del dolore nei pazienti che magari sono oncologici o che hanno delle malattie degenerative possiamo lavorare sul dolore acuto anche qualora si manifesti anche in piccoli interventi di routine ortopedica qua mi sono scritto tutto ciò che riguarda ad esempio l'aspetto psicosomatico se noi andiamo a prendere il libro di Gridek il libro dell'Esse troviamo naturalmente nelle varie epistole che lui crea in questo bellissimo libro anche l'utilizzo dell'ipnosi tra l'altro Gridek è uno psicosomatico antelittera riconosciuto dallo stesso Freud che lo difese rispetto ad altri autori di quel tempo quindi sono molto interessanti anche queste variabili ad esempio citando Riccardo Roni Bertolino lui è famoso per aver utilizzato l'ipnosi nel suo studio sulla guarigione dalle perruche l'acne e poi naturalmente la prossima lezione io invito tutti quanti a partecipare perché lì vedremo proprio i fuochi d'artificio rispetto a questo tipo di trattazione nello specifico e secondo me merita tantissimo risalto con il professor Giannini e il professor Facco effettivamente si parlerà in modo profuso di questo tipo di argomento e naturalmente quello che io definisco è il change behavior quindi il cambiamento comportamentale e anche qui utilizzo questo termine proprio per far vedere che posso utilizzarlo esattamente come mi farebbe un cognitivo comportamentale un comportamentista un cognitivo un cognitivista proprio per questo motivo perché è uno strumento che va trasversalmente lo utilizza Beck e lo cita nel suo libro sull'ansia alle fobie e pertanto anche questo è un'assunzione del fatto che effettivamente fosse uno strumento molto utilizzato certo è che se noi andassimo a prendere ad esempio un libro come questo che avete studiato tutti quanti l'ho studiato pure io io ogni anno me lo rileggo la storia della psicologia di Legrenzi ovviamente viene un pochino misconosciuta l'ipnosi perché ovviamente è uno strumento anche un pochino scomodo perché nella sua storia è stato un po' controverso ma non è controverso lo strumento eventualmente sono state controverse le personalità che ne hanno abusato e allora lì sì diventa più una situazione concettuale ed etica ma ad oggi è uno strumento appunto del tutto utilizzato ampiamente utilizzato e ripreso anche in nazioni come la Francia che per un lungo periodo l'ha visto quasi demonizzato al punto tale che ci sono dei protopolli fissi all'interno dei più grandi ospedali questo è un sintomo molto importante che è uno strumento che esiste nella nostra storia dagli albori quindi da prima ancora che capissimo che ad esempio l'oppio come dice Fracco facesse bene e gestisse il dolore l'abbiamo sempre utilizzato e in qualche modo protocollato in diversi modi il famoso sonno che cura quindi i tempi di esculapia ad esempio tutto quello che riguardava un pochino anche le varie procedure durante il 1800 per amputare fondamentalmente i soldati durante la secessione quando mancava la morfina spiega il stesso e poi qui cedo il passo perché sto parlando anche troppo spiega il stesso ti stiamo a ascoltare me non penso se dicevo cose poco interessanti ma ne fate finta qua ok mi spiega il stesso racconta come durante la la seconda guerra mondiale lo utilizzasse durante la campagna in Africa per portare del suo lievo alle truppe che venivano in qualche modo ricucite negli ospedali da campo quindi ecco l'importante chiudendo un pochino il cerchio è capire qual è il nostro approccio sistemologico la nostra matrice culturale capire che questo strumento va utilizzato naturalmente in un rapporto di fiducia reciproco e quindi un rapporto che sta all'interno di un setting molto chiaro qua dentro non soltanto nello studio e soprattutto come utilizzarlo e perché qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere una volta che sia questo lo posso utilizzare veramente in tutta la 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 miliade di scuole che esistono c'è stato e veramente chiudo perché poi basta una nostra studentessa l'anno scorso ha fatto un bellissimo lavoro lei è una costruzionista un bellissimo lavoro di ricostruzione delle parti del sé con l'ausilio dell'ipnosi o meglio più consapevole del fatto che stesse già utilizzando l'ipnosi infatti ha avuto dei risultati che erano un pochino inaspettati da parte sua naturalmente superando quelle che poi sono le piccole fenomenologie che possono capitare come la reazione che a volta può essere un pochino fraintesa però è riuscito ad ottenere dei risultati soddisfacenti sia per lei che sorprendenti per la sua paziente quindi è sempre importante capire che al centro di tutta questa storia c'è il paziente noi siamo lì accanto cerchiamo di dare delle indicazioni per quanto possibile diamo una mano in alcuni momenti e poi però potenziamo il nostro paziente o cliente a seconda della scuola di psicoterapia per proseguire il percorso da solo quindi questo è un pochino il pensiero che ci tenevo a passare come connessione tra quello che è stato detto nella prima bellissima lezione di Ennio e Donatella e quello che poi sarà effettivamente completato con il con Rocco e con Enrico adesso ho sentito una voce anche tu l'hai sentita si è venuta fuori una voce è così che semplicemente voleva fare il suo intervento ok ti cedo la parola Guido anzi scusa se ti ho preso tutto questo tempo ma stai scherzando anzi grazie di tutte queste cose che hai detto perché sicuramente hanno chiarito dei punti fondamentali e mi aggancio proprio all'ultima cosa che hai detto per rimarcare proprio quanto questo quindi calandoci un pochino su quello che è anche il mio mio campo più specifico quindi calandoci nella realtà clinica dell'approccio psicoterapeutico che utilizza l'ipnosi come un momento fondamentale mi riattacco proprio all'ultima cosa che hai detto perché l'ipnosi diventa un un patrimonio essenziale proprio per la persona che pratica che va in trans diciamo così su cui viene fatta la trans la trans stessa è qualcosa che diventa un patrimonio fondamentale della persona che viene indotta perché questo perché oltre all'utilità specifica per cui si usa l'ipnosi per esempio all'interno di una di una terapia ci sono tutta un'altra serie di valori aggiunti che l'ipnosi conferisce per esempio proprio quello uno su tutti di allenare degli strumenti fondamentali per la vita come per esempio l'attenzione prima hai parlato il monoideismo plastico e quel prefisso mono che dette Granone di cui parlò Granone fu proprio quello che si riferiva all'idea che qualcosa veniva concentrato proprio su un punto e quel qualcosa richiamava tra le varie funzioni proprio anche l'attenzione che a volte mi piace dire è un muscolo e però non siamo così tanto abituati ad allenare per farlo diventare importante e potente in un contesto sociale attuale storico in cui l'attenzione distribuita quella diffusa fra centomila stimoli ci fa fra l'altro vivere una realtà che porta anche a tanta sintomatologia abbiamo tanta ansia abbiamo tanti attacchi di panico in crescente almeno per quello che riesco a vedere io dal punto di vista clinico dal punto di vista statistico sono fenomeni estremamente crescenti oltretutto nell'estrema attualità si viene investiti anche dal periodo pandemico che ha accentuato tantissimo tutti questi processi e proprio anche in questo momento pandemico c'è stato si è visto tanto quanto il rapimento dell'attenzione da tantissimi stimoli che vengono dall'esterno possa creare poi il sintomo qui si parla di fare la cosa opposta cioè focalizzare talmente tanto l'attenzione e altre funzioni cognitive ma interne che tanto da arrivare a rendere tangibile l'effetto come dicevete prima arriva proprio arriviamo addirittura all'organo arriviamo addirittura insomma a rendere anche diciamo così fra molte virgolette perché mi piace sempre mettere oggettivamente a coinvolgere un organo che ha un effetto di analgesia parliamo addirittura di di anestesia se vogliamo parliamo di tante cose però si arriva in modo puntuale con l'ipnosi quindi come dire utilizzare l'ipnosi all'interno di un percorso terapeutico può voler dire intanto avere un approccio mi viene da dire sintetico oltre che analitico perché la psicoanalisi è molto bella e molto affascinante ma a volte si fatica oltre allo strumento analitico che è molto molto presente in tutte le scuole si fatica e si procede proprio in quel senso a cercare lo strumento invece che è terapeutico quindi fatta l'analisi e a volte solo l'analisi diventa terapeutica però poi dopo come si arriva anche a trovare l'effetto a volte c'è l'urgenza del sintomo per esempio l'urgenza del sintomo perché se io ho un attacco di panico è certo che con una buona psicoterapia riesco a arrivare alla causa e probabilmente anche dissolverla quindi con l'attacco di panico non ce l'avrò più però nell'immediato inserire un momento di ipnosi può voler dire intanto migliorare la qualità della vita migliorare la qualità della vita perché si attua fondamentalmente si va a dare una direzione all'intervento in questo caso abbiamo una conversione psicosomatica perfetto noi facciamo l'intervento somato-psichico invertiamo un po' per giocare i termini e con l'ipnosi riusciamo per esempio ad aiutare intanto a evitare il sintomo per avere poi anche il tempo di vedere anche tutto il resto con un'accentuata abilità della persona che sia davanti che sia cliente o paziente a seconda della scuola di avere una focalizzazione dell'attenzione che gli permette anche di attuare una presenza mentale che come dire gli fa assorbire estremamente più rapidamente anche quelli che possono essere i progressi dati dall'intervento terapeutico quindi sono proprio due cose che si compenetrano bene la la psicoanalisi e l'ipnosi e se si riesce naturalmente a ri-identificarla come un momento come un protocollo come una procedura che va seguita naturalmente ma che si inserisce all'interno di altri tipi di protocolli si arriva ad avere uno strumento eccezionalmente potente per esempio ora citando naturalmente poche cose ma c'è tutta una casistica anche nella nella mia per esempio esperienza clinica in cui affiancare la psicoanalisi con l'ipnosi ha voluto dire proprio questo cioè cercare subito la la scomparsa del sintomo e poi dopo naturalmente lavorarci perché quel sintomo possano comparire di nuovo per esempio ho avuto dei casi particolari come quello sono stati più di uno della paura di guidare non so se può essere può avere una casistica proprio relativa a questo momento anche considerando la pandemia e tutto quanto però io ho avuto tanti casi in questo periodo in questi ultimi due anni in cui c'era paura di guidare di persone che hanno sempre guidato la macchina che non hanno mai avuto problemi in questo senso e che poi dopo si ritrovavano si ritrovavano o a non poter fare più determinate strade tipo l'autostrada o proprio a non salire più in macchina e con l'utilizzo dell'ipnosi questo si può si può naturalmente alleviare tanto per esempio in questo caso mi sono orientato più su un discorso di ipnosi progressiva poi naturalmente anche questo potrebbe essere approfondito del fatto dell'ipnosi regressiva progressiva o di altro tipo comunque questo un'ipnosi progressiva ha fatto tanto presente in questo senso anche per il nostro pubblico vogliamo brevemente spiegare la differenza tra regressiva e progressiva si qua io credo che Paolo possa darti il suo aiuto brevemente in sintesi si si molto in sintesi noi viviamo nel tempo quindi c'è il momento presente il futuro e il passato naturalmente con la mente noi possiamo prevedere il futuro il nostro cervello è un elaboratore potentissimo io ad esempio riesco sempre a capire quando mi sta per chiamare mia madre non so se capita a qualcuno di capire quando qualcuno lo sta per chiamare però più o meno ci riusciamo certo non è magia è semplicemente una grossa possibilità di calcolo ecco se noi utilizzassimo appunto l'ipnosi con una metodologia progressiva noi riusciamo a portare il paziente vividamente come se fosse una rivivificazione di un evento che ancora non deve accadere ma che può accadere nel futuro e quindi lo aiutiamo ad esempio ad uscire dalle unpass questo Guido naturalmente ha parlato in questo caso della problematica della guida ma può essere anche semplicemente una scelta un bivio tra due scelte però esistenziali molto potenti che mi mettono una forte angoscia e quindi portare il paziente al di là della scelta laddove lui è sereno per 5 anni sta bene ha già compiuto tutto quello che deve compiere gli permette di fare una revista engineering rispetto a come ha portato avanti la tua scelta e questa è l'ipnosi progressiva quindi il protocollo progressivo per l'ipnosi poi abbiamo altri due termini che sono molto interessanti una è l'ipnosi regressiva che è famosissima perché è la parte più esoterica dell'ipnosi quindi la nostra capacità di andare a recuperare nella vita precedente per esempio sono stato Cleopatra esatto io no non so perché sono sempre i gobbo di Notre Dame però te lo dico in modo provocatorio perché mi viene fatta spesso questa domanda quindi posso vedere la mia vita precedente ok assolutamente no la nostra scuola ritiene di no per tanti motivi che adesso non stiamo qui a spiegare ma naturalmente chi vorrà farci questa domanda nel privato gli risponderemo con calma e molto serenamente non c'è problema però l'ipnosi regressiva è proprio questo ci permette di andare a riprendere dallo schedario della nostra memoria tutti quei ricordi che non sono caduti nell'oblio l'oblio è un fenomeno per il quale una traccia amnestica proprio non attecchisce e quindi non può essere ricordata però tutto quello che invece è stato rimosso ad esempio utilizzando un termine di meccanismi di difesa molto classico molto tipico può essere recuperato noi abbiamo due modi per recuperarlo uno è la la rammemorazione quindi riprendo il ricordo mi ricordo che cosa è successo anche adducendo particolari che magari mi potevano essere sfuggiti e l'altra è la rivivificazione quindi io rivivo il ricordo quando parlavamo dell'MDR l'MDR sostanzialmente è questo è un protocollo regressivo cioè io ti porto a un ricordo e te lo faccio ricordare per tutto il tempo della terapia con l'ipnosi è una metodica un pochino più dolce naturalmente con tutta una serie di protocolli anche volti a tutelare il paziente rispetto al ricordo che potrebbe essere effettivamente molto gravoso e questa è l'ipnosi regressiva poi c'è un altro tipo di ipnosi che tratta sempre il passato e che permettetemi questo sorriso sornione ma è la regressione d'età che è molto simpatica perché è quella che prima quando era ancora possibile fare l'ipnosi da palcoscenico era fatta spesso dagli ipnotisti non sempre gli riusciva molto spesso quelli che erano lì con loro sul palco erano semplicemente dei complici però quando riusciva con qualcuno era interessante la regressione l'età che cos'è è riportare il paziente ad uno stato mentale tipico di un certo periodo della sua esistenza quindi ad esempio l'età fanciullesca quindi che so a sei anni lui riproporrà esattamente lo stesso setto di personalità gli stessi comportamenti addirittura alcune volte anche lo stesso timbro di voce tipico di quell'età nella sua storia ovviamente questi sono spiegati molto per sommi capi poi naturalmente l'ipnosia regressiva viene molto spesso utilizzata anche come recupero di risorse che pensavamo di aver perso oltre naturalmente alla progressiva che abbiamo detto che è più la capacità di sentirsi forti in una decisione che si è presa quindi anche per migliorare le attività di coping e le capacità di coping quindi spero di aver chiarito un attimino fatta una piccola digressione definitoria perfettamente però siccome questa era sicuramente una curiosità molto grande delle persone che stanno guardando era giusto anche proprio puntualizzare quindi grazie perché sicuramente avrai risolto una domanda che aleggiava nella non scritta ma che poi ha fatto nell'etelio è stata Irene a portarla per tutti perché fra l'altro ecco quindi adesso non per tutti sarà più chiaro come per esempio appunto una cosa come la paura di guidare è stata risolta direi egregiamente almeno nella sintomatologia e poi dopo comunque continuata a trattare con l'ipnosi progressiva così come anche con l'ipnosi progressiva e anche regressiva per esempio è stata trattata qualcosa di un pochino più particolare che mi è successo una ciclista quindi una sportiva una persona che lo faceva di professione che non riusciva più ad andare a salire in sella alla bicicletta naturalmente con l'ipnosi progressiva lei si riconfigurava nel futuro naturalmente durante la trans come quella che saliva tranquillamente in bicicletta e riusciva a fare tutte le cose e anche con l'ipnosi invece regressiva ritornava a quello che avevamo visto con la terapia psicoanalitica essere il punto che forse andava proprio a causare quel tipo di conversione e non un'altra che derivava da un contesto infantile che con l'ipnosi regressiva appunto andavamo a rivederlo e magari a rielaborarlo molto bene ma comunque casi veramente diversi anche da questi per esempio l'agorafobia di una donna che non riusciva più a stare in spazi aperti in particolare non riusciva più ad avere una vita sociale anche qui post-pandemica oppure l'ansia l'ansia da prestazione sia da prestazione lavorativa intesa come per esempio nel caso specifico di un imprenditore che non riusciva più a fare delle cose perché gli veniva un'ansia appunto molto forte da prestazione che gli dava tutta una serie di sintomatologie anche fisiche oppure per esempio quella anche da prestazione sessuale perché no e poi anche casi dove era presente il dolore neuropatico oppure un dolore anche associato a una patologia come l'artrite reumatoide e lì devo dire che in effetti il rapporto che si può avere con l'ipnosi è incredibilmente elevato Guido c'è stata una domanda sul canale youtube nella diretta streaming sul canale youtube una persona ha chiesto qual era secondo te il rapporto che Jung aveva con l'ipnosi per esempio dal punto di vista della psicologia complessa c'era l'utilizzo di una pratica come prima diceva Paolo nel DNA di ogni approccio c'è qualcosa c'era l'immaginazione attiva che poi fu ripresa tanto anche dalla Marie-Louise von Franz che fu ripresa anche da tutti diciamo le persone che hanno afferenti alla psicologia complessa nell'immaginazione attiva si arriva ad uno stato di coscienza modificati modificazione della coscienza che è tipica proprio dell'ipnosi e che quindi naturalmente anche lì oltre poi ad avere una connessione con l'ipnosi to cure voglio dire Jung scuola freudiana e scuola freudiana che veniva un po' da lì quindi al di là di quello lo strumento specifico era quello chiamato dell'immaginazione attiva oltre a quella c'è anche la visualizzazione guidata di Desuaglia per esempio è anche un precursore di altri tipi di approcci tutte le visualizzazioni guidate l'oniroterapia ci sono tantissime declinazioni dell'ipnosi in contesti dinamici analitici effettivamente era proprio per questo motivo che mi piaceva utilizzare questa diciamo parte della della puntata per sottolineare il fatto che è molto vero il il fatto che ci sia una trasversalità no? dell'ipnosi rispetto ai vari approcci psicoterapici tuttavia io credo che non si possa diciamo parlare della stessa trasversalità se non si tiene conto comunque di una teoria della mente che deve comunque essere quella che tiene conto che ci sono delle parti che che sono da qualche altra parte no? che ci sono degli spazi delle stanze come citando tondelli delle camere separate che devono entrare in connessione ecco laddove questo non è contemplato dal punto di vista diciamo della della teoria della mente o dell'impostazione epistemica o ontica dell'uomo stesso io credo che non sia così semplice parlare di ipnosi perché ci sono anche delle persone o comunque delle correnti di negazione diciamo ecco di questa possibilità e questo lascia a maggior ragione diciamo convinti del fatto che invece esiste come perché sappiamo che la negazione per definizione è una doppia affermazione quindi è vero che no quindi però volevo anche dire che a proposito appunto delle scuole psicoanalitiche volevo anche dire che a mio avviso una parte importante del rapporto tra ecco Ennio dice che Jung tende dal 1909 al 13 lezioni di ipnosi dell'università certo infatti ecco dicevo che comunque l'alleanza terapeutica o comunque il rapporto il transfert come in qualche modo lo vogliamo anche declinare credo che possa giocare un ruolo talora anche facilitatore rispetto all'itmosi certo anche perché una cosa che naturalmente Guido ha sottolineato tra le righe quando parlava di potenziamento del paziente anche il fatto che poi il paziente una volta che si appropria di uno stato mentale che gli compete perché l'abbiamo detto il cervello funziona così è come una macchina tutte le macchine hanno almeno quattro marce adesso prima ce ne avevano magari solo due però una volta che si appropria anche della quarta la macchina va anche in quarta se c'è pure la quinta tanto meglio una volta che il paziente riesce a riconoscere lo stato di trance gli trasmettiamo la capacità anche di andare in autoipnosi e molto spesso accade anche dopo delle sedute di analisi che il paziente rifletta a tal punto su quello che è accaduto durante la seduta da riviverla parapara è molto interessante anche questo Erickson stesso ha una topica della mente dove c'è una parte consapevole e cosciente e una parte non consapevole passatevi il termine di un subconscio è molto importante naturalmente anche questo aspetto da un punto di vista fisiologico è esattamente la stessa cosa se noi prendiamo il cervello e volessimo andare a cercare la parte dell'inconscio e lo volessimo in qualche modo individuare a livello del ponte del midollo piuttosto che del bulbo che del cervelletto effettivamente sono delle zone che durante l'ipnosi possono essere sollecitate perché così si spiegano ad esempio i cambiamenti di microcircolazione piuttosto che l'aumento o la diminuzione della temperatura piuttosto che il totale in qualche modo annullamento di una parte del corpo la totale anestesia e analgesia di una parte del corpo e per questo motivo quindi anche coloro i quali riducono l'esperienza umana semplicemente al corpo come se fossero semplicemente dei robot in realtà avvallano ulteriormente queste tesi perché parlano in termini indifferenti naturalmente consapevoli più da un punto di vista anatomico però esattamente di queste topiche che sono delle topiche che accompagnano tutti anche i comportamentisti a un certo punto si sono dovuti fermare a dire scusate va bene quello ha fatto quella cosa ma perché non ha fatto come gli altri 200 perché c'è stato quel risultato tant'è che si parla di ceno comportamentismo di neocomportamentismo quindi è ovvio che la parte dell'esempio cognitiva è una filiazione diretta di quello un'emanazione di quello che diceva Watson quindi permettetemi questa digressione ripasso la palla a qui sì sì ora non so bene quanto come siamo messi Irene anche col tempo beh abbiamo ancora dieci minuti ok naturalmente ecco mi piaceva anche vedere se qualcuna aveva qualche domanda non non abbiate timore a scrivere le vostre domande in modo tale che noi si possa anche fugare alcuni dubbi quando non ci sono domande ho sempre paura o di aver fatto addormentare le persone ma non ho mai il dubbio di essere stato troppo bravo quindi molti dormiranno di solito c'è questo fenomeno appunto o dire anche l'ora è tarda io ringrazio tutti i partecipanti che magari non hanno visto la partita della Lazio piuttosto che il film bello in televisione o la serie su Netflix per partecipare a questo incontro che tra l'altro vi ringrazio per averlo reso così piacevole intanto sì molto molto piacevole davvero e fra l'altro vedo che c'è qualcuno che sta scrivendo quindi questo mi dà sempre un buon eccoci vi sono pazienti con cui l'ipnosi è sconsigliata ah bella domanda allora qui si avrà un dibattito e alla cui risposta intanto iniziamo con dipende perché ci sono per esempio ci sarebbero i pazienti a cui la sconsiglio sono i coniugi di noi psicoterapeuti ah beh quelli sono terribili lo sento se i nostri partner non sono né analizzabili né ipnotizzare sarebbe meglio non farlo da noi sicuramente no da noi sicuramente no da noi da noi allora vabbè una battuta per alleggerire un po' dai certo anche perché insomma ci vuole a quest'ora ci vuole è una domanda a cui rispondo con non dipende perché nella pratica clinica molti grandi autori non hanno riscontrato problemi con nessuno al limite hanno riscontrato una impossibilità di condurre il paziente in uno stato di trans perché abbiamo detto che fondamentalmente è un rapporto di fiducia quindi tutte quelle patologie che non prevedono che si possa instaurare con il terapista un transfer o un rapport o un rapporto comunicativo o un RAI ovviamente non è che è sconsigliata è praticamente impossibile questa è la prima cosa poi ci sono naturalmente dei casi che nella letteratura scientifica vengono sconsigliati per non dare adito a grossi scompensi quindi tutti i disturbi del pensiero piuttosto che situazioni psicotiche piuttosto che disturbi schizofrenici di personalità e a volte anche casi gravi di borderline in cui o possiamo avere uno scompenso di quel tipo oppure proprio non riusciamo ad avere un rapporto perché come anche lo schizofrenico non si fida in realtà e questo è un aspetto oltre a questo ovviamente ci stanno delle necessità cioè ci stanno proprio dei prerequisiti per andare in ipnosi cioè la capacità di concentrarsi la capacità di assorbire di lasciarsi assorbire dal proprio io e soprattutto di focalizzarsi su un'idea ovviamente questi prerequisiti a volte mancano nelle grossi scompensi depressivi quindi ad esempio nelle manifestazioni della depressione maggiore quando ci hanno dei rallentamenti cognitivi dove non ci stanno fondamentalmente risorse psichiche per portare avanti questo o momenti di depressione molto acuta dove effettivamente non ci sta proprio la la capacità anche di permettere al paziente di concentrarsi su qualcos'altro a volte in quel caso è molto più opportuno aspettare o che la farmacologia faccia effetto per ridurre un pochino la sintomatologia e poi iniziare a lavorare o proprio che faccia il suo decorso l'episodio in modo tale da poterlo potenziare successivamente dopo anche solo nella in una sorta di prevenzione rispetto a riconoscere i campanellini dell'arme di quando arriverà il prossimo attacco quindi ecco diciamo che c'è una specie di continuum che crea una matrice di vari disturbi che va dalla pratica clinica dove spiega e dice io non ho avuto nessun problema con nessuno a effettivamente advertiser chiamiamoli così scendipi dove dicono effettivamente fate attenzione perché se non usate adeguatamente lo strumento rischiate di scompensare qualcosa che è latente piuttosto che effettivamente essere inefficace e dare una brutta immagine sia dello strumento sia dell'esperienza stessa al paziente quindi mi sento di dire questo tutto questo sta anche un po' nel fatto dell'ipnologo che per esempio una cosa di cui hai parlato tu prima brevemente molto brevemente è l'abreazione che è un fenomeno estremamente presente nella e questo non significa che allora in quel caso era sconsigliata ma anzi ci sono le abrazioni e a volte possono essere anche abbastanza intense questo non significa che sia toccato chissà quale argomento cosa che non si poteva toccare cioè qui si parla comunque di portare a degli scompensi piuttosto gravi insomma esattamente allora Ennio dice che nei due campi supposti come controindicati bambini psicotici è praticabile con idonea pre-metratura tecnica ad esempio la dottoressa Orifiammi praticava a me purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa praticava l'ipnosi con addirittura dei gruppi di pazienti psicotici ma lo faceva in negativo quindi piuttosto che farli di nuovo riassorbire dal loro mondo interno li portava ad una maggiore consapevolezza del mondo esterno e guardate come ho appena citato la mindfulness ok wow quindi effettivamente l'importante è sapere che cosa si utilizza per evitare naturalmente degli intoppi piuttosto che delle brutte situazioni allora un'altra domanda è un argomento scrive Marina De Rose è un argomento che mi incuriosistima e su cui non sono nulla dunque chiedo scusa come si diventa ai curiosisti bisogna essere psicologi e psicoterapeuti una medium per esempio pratica una sorta di autoipnosi allora bella domanda pure questa grazie Maria è un domandone è un domandone questo vale 100 milioni di dollari allora è vero prima cosa per essere degli esperti in ipnosi sicuramente bisogna afferire ad una professione di tipo sanitario in particolare essere psicologi possibilmente psicoterapeuti per utilizzare alcuni tipi di di protocolli come abbiamo definito prima quello della regressione ipnotica e dell'ipnosi regressiva oppure medici naturalmente la differenza sta anche nel tipo di lavoro che si va a fare ovviamente il medico lo utilizzerà per delle pratiche mediche vedi l'anagesia piuttosto che l'anestesia o quant'altro mentre lo psicologo lo utilizzerà magari per un sostegno per un lavoro un pochino sull'ansia eccetera eccetera lo psicoterapeuta invece lo utilizzerà in ambito psicoterapico quindi anche con situazioni un pochino più gravi ovviamente questo è il prerequisito per quanto si riguarda le medium potremmo aprire libri libri di di ipnosi che vanno dal serio al faceto perché ovviamente sì le medium hanno delle grosse capacità di autoipnosi poi ognuno di noi ha delle proprie credenze che in nessun modo vanno intaccate o bisogna non prendere in considerazione però se posso permettermi sicuramente quel tipo di trance che riesce eventualmente ad ottenere è una trance fisiologica e difficilmente per quanto mi riguarda poi ognuno è libero di credere ciò che vuole serve per connettersi con altri mondi cioè non toglie che effettivamente poi ognuno è libero di avere l'impianto ideologico che più preferisce sicuramente non andrei da un medium per farmi fare una cioterapia questo no quindi bisogna naturalmente dare alla professione le giuste responsabilità perché una cosa che ci tengo a dire è che esistono tante figure in una zona di sfumatura che si occupano del mondo della mente però non tutte si prendono le responsabilità che ci prendiamo noi in qualità di professionisti iscritti ad Albi con delle responsabilità etiche legali e deontologiche che non sono indifferenti quindi grazie grazie Paolo o badare bene su questo d'accordo? tra l'altro su questa cosa anche qui piccolissima piccolissima chiosa su questo per quanto riguarda appunto l'autoipnosi e la medium è anche interessante vedere come per esempio e parlo di questo proprio perché per esempio Carl Gustav Jung nella sua tesi sui cosiddetti fenomeni paranormali ha trattato proprio questo nella dinamica della teoria dei complessi si possano proprio vedere in fase di attivazione del complesso per esempio dei fenomeni di natura pseudoipnotica ovvero quando si dice che il complesso prende il sopravvento quindi anche qui si potrebbe poi parlare a lungo possiamo digredire quanto vogliamo esatto tutto qua va bene io vi ringrazio molto credo che ci sia qualche altra domanda o qualche altra riflessione da casa quindi vediamo subito appunto quali possono essere e dopodiché ovviamente si chiuderà ringraziando tutti coloro che hanno partecipato sì effettivamente sarebbe stato bello poterli vedere tutti di faccia non vedo l'ora che questo possa riaccadere più serenamente ecco lo spero molto anche siamo un po' diciamo ansiosi di riprendere qualche volta anche un po' disorientati eh sì è vero va bene allora io ringrazio scusami Irene proprio due secondi per dire una cosa che riguarda questo tipo di periodo in particolare effettivamente già nel trattato di Granone si parlava di come tramite Medium quale ad esempio la telefonata piuttosto che l'intervento satellitare si potesse indurre a distanza l'ipnosi effettivamente durante purtroppo questa pandemia per forza di cose abbiamo dovuto far fronte anche a questa esigenza con ottimi risultati devo dire funziona funziona molto bene ed è molto bello certo ci stanno dei limiti che sono prevalentemente quelli tecnici però è uno strumento che ecco è polietrico e funziona anche a distanza soprattutto per scopi terapeuti quindi mi raccomando sappiate che in Italia l'utilizzo dell'ipnosi da palcoscenico è proibito tassativamente è proibito quant'è che chiamano gli impronisti spagnoli che non lo sanno come è successo nel video con i mazzanicchi loro non lo sanno quindi vengono e poi si è derivato in Spagna i nostri non lo possono fare nel frattempo Irene credo che si sia eccola ecco sarà un attimo ti hai ribloccato un secondo come? ti hai ribloccato un secondo pensavo che si fosse ogni tanto sì mi blocco ma io credo che sia qualcosa legato alla rete che ho che non è in questo momento molto stabile e niente vedo che c'è qualcuno che scrive ma non riesco a leggere deve essere forse Milena andiamo un po' sì effettivamente Milena puntualizza quanto ha l'ho espresso anche prima l'utilizzo dell'ipnosi è specifico per la professione per le proprie mansioni per le proprie competenze e non può essere utilizzato in modo inappropriato da nessuna figura sanitaria quindi ringrazio per la puntualizzazione perché è più che dovuto più che necessario più che doveroso certo allora qual è il percorso per formarsi chiede Salvatore bene allora qui dipende anche qui c'è sempre un dipende naturalmente mi dispiace però me lo state chiedendo io mi chiamo Granone che cosa dirvi se non appunto che c'è proprio un corso sviluppato dalla fondazione Granone che tra l'altro si sposa perfettamente con l'istituto Eric Fromm grazie al quale abbiamo anche improntato un percorso un pochino più ampio soprattutto di perfezionamento rispetto all'utilizzo dell'ipnosi in ambito terapeutico quindi noi naturalmente consigliamo i nostri tipi di percorsi adesso non lo dico soltanto per per vanto o per tirare l'acqua al nostro mulino ma effettivamente molti degli articoli di giornali che si trovano anche recentemente e molti degli articoli che vengono pubblicati sui vari motori di ricerca PubMed Psycarticles e quant'altro provengono appunto da ex iscritti al nostro percorso al nostro corso di formazione quindi è il corso di ipnosi in assoluto più non solo più completo e più performante sul piano della preparazione della competenza però a parer mio anche più serio e più costruito intorno alle professioni sanitarie naturalmente differenziando anche dei percorsi appunto che sono magari un po' più medici rispetto ad altri che sono un po' più psicologici però comunque tenendo conto tenendo di gran conto appunto il target di questa formazione che è poi quello che va a replicare diciamo nel mondo il modello stesso e che quindi deve informare di sé e della sua stessa preparazione quella configurazione della realtà nella quale poi l'ipnosi ha un effetto anche a volte del sasso nello stagno perché ovviamente tutte le cose che noi facciamo nella psicoterapia o in tutte le attività diciamo controcarmiche diciamo così hanno un effetto non solo di aumentare la consapevolezza ma di aumentare l'onda d'urto antientropica quindi certo no non voglio portare il discorso su delle questioni energetiche per forza però di fatto se noi andiamo a usare le cose in un certo modo poi questo ha un effetto su altro e su altro e su altro ancora è una ricaduta infinita e quindi un po' di responsabilità nella catena metabolica dobbiamo un po' averla certo esatto e questo lo dico soprattutto per i miei allievi e i miei tirocinanti collegati ricordiamoci che la From e il CX sono grandi alleati nella formazione reciprocamente seria reciprocamente di alto livello non è un portare l'acqua al proprio mulino è semplicemente riconoscere quando quando si è diciamo come essere nella Champions League e non si può far finta di essere invece quelli della parrocchia grazie mille è vero chiede Alice però queste sono domande ora da fine sera non so se l'ha spiegato prima ma come si capisce lo stato di trans eh beh però è la specifica guarda Alice sarò contentissimo di spiegartelo in un altro momento però effettivamente anche lì durante il corso chi l'ha frequentato lo sa c'è una lezione specifica esattamente solo su quello perché poi sono anche delle cose evidenti ma che richiedono allenamento e occhio occhio clinico come si può dire quindi mi dispiace non potertelo dire subito però sarò lieto di spiegartelo magari una volta che ci incontriamo a Torino oppure a Prato oppure a Pato bene allora io saluto tutti rinnovo un ringraziamento a Paolo Granè da Roma collegato da Roma a Guido Rutilhi collegato da Liense un ringrazio di cuore a tutti i nostri amici anche del CIX e Nio Foppiani ma anche di di Salvatore di Gian Antonio e Milena e a tutti coloro che comunque questa sera sono stati con noi ci vediamo il 28 se non erro per un'altra puntata insieme con appunto abbiamo detto Rocco anche per lavorare su degli aspetti diciamo diversi da quelli della psicoterapia ma sempre poi collegati e legati al benessere in generale e quindi alla salute sempre dei nostri pazienti ancora grazie buonasera a tutti e alla prossima buonasera a tutti grazie ancora a presto ciao a tutti